buongiorno a tutti benvenuti in questo nuovo video decimabue oggi con noi c'è l'endrio buongiorno ormai fa parte decimabue della combricola unitevi mi raccomando un po' di legno ne abbiamo dai l'ha fatta questo personaggio qui l'ha fatta pure le barrette proteiche vedi sui gara devi fare la legna com'è l'endrio? buongiorno bel potto eh cosa? buongiorno salute l'endrio salute la vostra la vostra le nostre amiche che ci vengono a trovare sempre guardale la vostra 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 Sono giocato l'orologio. Già manca la verdura, eh? Forza, ragazzi, nuovo video su YouTube. Oggi siamo stati qua. Mi ha lasciato tutto pulito e adesso ce ne andiamo. Un posto meraviglioso. VAMONOS! Anche oggi andrà bella giornatina di Andre. Come è stata oggi? Questo qua è un bel posto. Ci torneremo presto. Grazie a tutti. Ciao! Ciao! Ciao!